Benvenuti ragazzi in un nuovissimo, fantastico, extra, bellissimux, bellissimux video Oggi storniamo su Brocaven a rapinare case Non so perchè oggi mi è venuta questa voglia di rapinare case Perchè da tanto che non faccio video allora voglio andare a rapinare case Perchè mi piace rapinare? Quindi andiamo, grazie a Wolfpack E vi faccio anche vedere Cosa Puoi fare Che puoi ballare Scrivendo semplicemente Vabbè questo me lo farò vedere in un video a parte Se scrivi Due parole che vi farò vedere Del prossimo video Che è sempre oggi L'ho già fatto Quindi L'ho già pre-registrato questo video Che vi faccio vedere Se scrivete queste due cose Che ne so Se scrivo Questo Mi fa fare questo Ok E sono cose segrete Che poi vi farò vedere Quindi adesso Andiamo Purtroppo non sono premium Non c'ho voglia di pagare i robux Voi di Prenderò il premium Così che possiamo fare un sacco di roba con le casse Possibile che non c'è nessuno Con la casa Perchè oggi rapineremo un bel po' di case Su Brocaven Mi è venuta questa idea da fare Perchè Sapevo cosa fare Durante il giorno Sapevo cosa fare Allora Ho detto ciao Facciamo un video su Brocaven Prendiamo questo Prendiamo anche questo E andiamo A rapinare Che ci basta Semplicemente Un sacco a pelo Da mettere così Avete visto tutti Vabbè Siccome il proprietario di casa non c'è E lo so bene Che non c'è Ah l'ho pesato E questo l'ho pesato benissimo Sono dentro Adesso dobbiamo semplicemente cercare Il pianoforte No E la cassaforte Che pianoforte Il pianoforte non interessa Chi c'era il pianoforte in casa Chi c'era il pianoforte Vabbè Su Brocaven Nessuno c'è il pianoforte Eccola Lo sapevo che era qua Se c'è la santa dei vestiti Adesso dobbiamo semplicemente Scappare male Il proprietario ci potrebbe bannare C'è chiccare dalla santa Da casa Dai no 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 Dai veloce Scappiamo Ma voglio osservare le cose Adesso ce ne possiamo pure andare Ma so se questo tema mi aumenta la velocità Probabilmente si Adesso non so dove andare però Per rapinare Quindi Adesso andiamo a rapinare un po' la banca Che so anche come fare perfettamente Quindi io lascio la moto qua Tanto poi sapete il segreto Bank valut è chiusa Non preoccupate Ce la faccio io No no Non è chiusa So che hanno spento le luce Borte scemi Porca vacca Ah e ragazzi Poi questo è un item Segreto Cioè guardate Poi si vede il buco Si zitto però Dai E qua ci ritroviamo la nostra Ma non ho rapinato la moto Ecco Adesso ce ne andiamo un po' in giro Poi vi farò vedere anche un item segreto Cioè la carta della banca Questa carta si potrebbe Si può ottenere semplicemente Quando vai a rapinare la banca O in banca E perché se andate a cercare Tra tutte le cose Tra tutti gli oggetti Questa carta non vi sarà Non è disponibile Infatti come vedete c'è la carta blu E la carta blu E la carta rosa Ma Non ci sono Ma non c'è questa Infatti questa se la togliete Vi basterà andare in banca La potete prendere Poi ci sono anche Altri item segreti Ci saranno sicuramente Poi un segreto di Brookhaven Nessuno ha queste macchine private Quindi Vi dico che se ce l'avete C'è persone ricche Ah Anche Vabbè questo qua ve lo mostro nel prossimo video Non posso mostrarvi tutto adesso Che vi mostrerò anche Altri item segreti Che si trovano dentro la scuola Di Brookhaven Dentro la scuola si possono trovare Due Un o uno Un item segreto Due Mi pare il foglietto Il libro Perché aspettate Il libro No non c'è il libro Ah no si c'è il libro Ah no non ci sono Item Ah e segreto che vi mostrerò nel prossimo video Nessuno usa questi oggetti come i pesi Nessuno li vuole Nessuno li utilizza Perché Allora Allora Wolf Perché ce li hai messi Perché tanto nessuno li vuole Wolf Wolf Perché ce li hai messi Ah e tra l'altro Wolf Se scrivete Wolf Vi fa fare qualcosa Che sono anche Balletti segreti Ok la banca è stata rapinata Però io non trovo la cassaforte No Poi È possibile che non abbia la cassaforte questo Ah no Ma non c'è Non c'è Aspetta E no che da qualche parte C'era un pulsante Per farvi fare Un passaggio segreto Che se riesco a fare Ve lo faccio Vedere in un video Perché è un passaggio Veramente bello Oh raga Non c'è la cassaforte C'è là questo Aspettate È un item Non c'è Ragazzi Vabbè Ma sarà al piano di sotto Allora E accendiamo il cammino Eh no Se può fare Raga mi sa che è arrivato il proprietario Me ne vado zia Me ne vado Me ne vado Via Scappa No Non riesco più a uscire Dai magari Ah no Non l'ha fatto bene Ok Ho messo a sedere Quello Ebbè Sì ma perché qua sono tutti inglesi Ma guardate C'è un segreto Ma no ma perché è so Risco a sedere sulla fontana E vai E vai Bello E i polizini Vabbè Adesso Andiamo Si entra Nel locale Della polizia Sì Sì forse riesco a trovarvi Il segreto Guardate Ma fammelo cliccare Vabbè Devo andare qua sotto Mi sa Ma non lo vedo Ma no Cosa faceva No Sono diventato un poliziotto Sono diventato un poliziotto Non me lo fa fa Non voglio Non voglio Voglio farvi vedere il segreto Sì era qua Non me lo fa cliccare Guardate Qua guardiamo la camera della polizia Se qualcuno ha rapinato la banca Vabbè No Non me lo fa fare No Dai C'è un segreto Qua sotto Non può Non fare Scusate Vabbè Non me lo fa fare Ragazzi Poi se ci riesco Non mi ricordo Se era questo Il tavolino C'era un tavolino Che te lo faceva fare Ti faceva Andare dentro No Che schifo C'è Il vato Guardate Qua c'è la tastiera Qua c'è per diventare poliziotto Ma non è che è da questa parte Che devo cercare Non è che il personaggio Deve Guardare Vabbè A me A me Un amico Mi faceva volare in aria Da qualche parte Non lo so Adesso Diventiamo minuscoli No Ti lievi dalle pagne Scusate Scusate ragazzi Ho un po' raffreddato Cos'è sei? Figo hanno inventato qualcosa di epico No Le skin Puoi avere le skin Di Candle Ma ragazzi Non faccio Se faccio così Vado Su Questo No rega È bellissimo È Fighissimo Adesso siamo piccolini Siamo velocissimi Oggi è domenica E mi sa che apri la discoteca No È vero Non lo so adesso cosa fare Andiamo in bicicletta Perché siamo troppo piccoli Per la moto Ma no Chi va a rapinare in moto Chi va a rapinare in bici Ancora Tutte queste bombe Mi sono stufato Mi sono rotto Basta Andiamo Non me ne frega Che sono Non me ne frega Adesso non andiamo Appiniamo L'ultima casa Ecco Questa casa è rossa Perché Qua è il proprietario Quella è il proprietario Via 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 Stiamo c'erano Qua Poi c'è Non ci sono Qui sfigati Ci sono quegli sfigati Su brocaven Che non chiudono le porte Cavolo di problemi Zia Se non ti dispiace Te la puoi anche andare Eccomi Così io posso rapinare In faccia Non mi sembrava di aver visto qualcuno Ecco Da nani si può fare Molto bene Adesso cerchiamo La casa Non mi dire che è come quella casa Perché è un mazzo Io vado via Betty si è eliminata la casa Per Ancora Ancora tu Palle che sei Ancora lui Via 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 Vabbè ragazzi Il video finisce Il video finisce Qua Noi ci vediamo Un prossimo video E hashtag Tutti nei commenti Hashtag Nani in moto Ciao Ciao